Presentati questa mattina gli eventi che si terranno dal 20 al 22 ottobre a Battipaglia. E' il progetto dedicato al restauro delle opere murali realizzate nel 1984 e l'esecuzione di una nuova opera murale a Piazza Risorgimento. Assessore, una piazza abbastanza sporca, sacchi dell'immondizia, cestini pieni, purtroppo, escrementi. C'è da fare qualcosa? Lei parlava di una rivalutazione, possiamo dare anche delle tempistiche? Sì, guarda, con i ragazzi del progetto che hanno curato i murales eravamo già rimasti d'accordo perché loro dovevano fare questa manifestazione a luglio. Noi eravamo già pronti per far partire la riqualificazione della piazza a luglio, ma siamo fermati anche perché loro avevano intenzione di fare questo progetto a luglio. Quindi sarebbe stato un sovrapporre le due cose e non era possibile fare. Quindi abbiamo rimandato noi la riqualificazione. Solo che poi loro a luglio hanno avuto dei problemi e quindi non hanno potuto svolgere questo restauro che hanno posticipato adesso. Tanto è vero che con i ragazzi eravamo rimasti d'accordo e che alla fine dell'evento poi avremmo potuto iniziare. Ma a questo punto è inutile dare dei tempi e dei modi perché siamo pronti, il preventivo è pronto. Però vorrei confrontarmi con loro per cercare, come dicevo prima, di dare un'identità diversa di questa piazza. Quindi che possa essere appunto un riflesso dei murales, di quello che è l'identità di questi murales, di quello che ha rappresentato, quello che potrebbe ancora rappresentare. Diciamo che, come dicevo prima, era una ristrutturazione, una riqualificazione da fare, già programmata, già con computo medio. Però a questo punto, se c'è da aspettare qualche giorno in più, preferisco aspettare in modo tale che potrebbe effettivamente, come dicevo, essere un progetto pilota per l'intera città. Dopo il 2019, dopo la realizzazione del primo intervento di restauro sull'opera dell'84 di Umberto Vota, siamo riusciti finalmente a fare una seconda edizione del progetto Spess. E addirittura, oltre a realizzare l'intervento di restauro della seconda opera di Evelyn Krumnau, sempre del 1984, stiamo realizzando una nuova opera con l'artista Oniro. Quindi, nel frattempo che i lavori sono andati avanti, l'opera dell'84 di Krumnau ha riacquistato i suoi colori. E quindi le persone hanno iniziato a vederla sotto una nuova luce. L'obiettivo è cercare di porre all'attenzione della sovrintendenza la presenza di queste opere e l'importanza di queste opere per la comunità di Battipaglia, per renderle bene, culturale e tutelato, di interesse sociale. E quello che stiamo facendo appunto sono varie iniziative, varie attività, oltre a interventi murali, sia di restauro che di nuova opera, per cercare appunto di raggiungere questo obiettivo.